Impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici scolastici degli istituti superiori che sono di propria competenza, ben 21 già programmati per un milione di euro di investimento che vanno ad aggiungersi ai 13 già realizzati, compostiere da installare nel bosco della reggia di portici per ottenere fertilizzante naturale dal taglio dei rami in seguito alla potatura, case dell'acqua realizzate in molti comuni, il proprio corpo di polizia è impegnato ogni giorno nella guerra contro la terra dei fuochi. Si è presentata così la città metropolitana di Napoli a EnergyMed, il salone convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo che giunto alla sua nona edizione per tre giorni ha esposto alla mostra d'oltremare di Napoli le ultime novità nel settore dell'energia pulita, del riciclo dei rifiuti e della vivibilità sostenibile. Forte orientamento alla sicurezza e all'ambiente e dunque tutte le sue attività espletate anche attraverso Armena Sviluppo, la società interamente di proprietà dell'ente di piazza Matteotti che si occupa di concerto con le direzioni interne, oltre che della messa in esercizio delle fonti di energia rinnovabile, anche della verifica degli impianti termici nei comuni con popolazioni inferiori a 40.000 abitanti, della ricerca, estrazione e concessione all'uso delle acque pubbliche, dell'utilizzo complessivo delle risorse ambientali. E non è tutto, intorno al tema del green e delle energie alternative ruota una miriade di opportunità di finanziamento che molto spesso i comuni non riescono ad intercettare. Da qui l'idea della città metropolitana di creare un apposito bureau di supporto tecnico. La città metropolitana nasce per dare dei servizi ai comuni e agli altri enti locali. Credo che noi potremmo magari informare tutti i comuni di queste possibilità. Il più delle volte gli uffici tecnici, specialmente dei piccoli comuni, sono oppressi dai problemi giornalieri, dalle emergenze, delle scuole, magari delle residenze popolari e poche volte magari si ha l'illuminazione di poter utilizzare queste leggi e quindi di fare entrambe le cose, cioè efficientemente energetico e chiaramente mettere in sicurezza questa parte di patrimonio.